Si è smarrito un signore che è venuto in bicicletta da Genova con la maglia rossa e blu. È per caso in sala? Non è arrivato, vedi che non è arrivato. Va bene, niente, come non detto. No, perché sono riservati a questo signore molto importante che viene in bicicletta a tanti chilometri, un po' come Pantani, ma non è arrivato. Quando arriverà lo facciamo venire lì. Io sono pesatore e lui è il professor Morigi. Io sono molto contento e onorato che una disciplina, diciamo, un po' emarginata, un po' cenerentolesca, che certamente non entra mai nemmeno dalla porta di servizio nei mondi e nei luoghi accademici, io sono molto onorato invece che il professor Morigi, che è un importante filosofo della scienza, abbia accettato di essere vicino a, virgolette, un cosiddetto astrologo, che in Italia è, come dire, zoccola. Prima di passare però il microfono, professor Morigi, io so il segno di Stefano. e gli chiedo a Stefano, la luna è entrata nel cancro. Il leone, quando guarda il cielo, testi del leone, quando guarda il cielo, cosa pensa? Che cosa gli viene in mente? Buonasera. Come avete potuto vedere, il dottor Pesatori, visto che usiamo i titoli accademici, ha cominciato a mettere le mani avanti con sottili strategie retoriche, che vanno smascherate fin da subito. Quindi non fidatevi troppo di quanto dice sulla, non solo sulla dignità della disciplina astrologica da lui, professata, sottolineo, da lui, e non da altri, ma non fidatevi in generale. Cominciamo. Non so cosa faccia un leone quando guarda il sole. Quello che però mi piacerebbe provare a raccontare in questa serata, all'interno di questo festival dedicato quest'anno alla responsabilità, quindi è un tema complicatissimo che fa tremare le vegne e i polsi, è immaginare cosa abbia a che fare la responsabilità quando uno scienziato, un filosofo della scienza, prova a guardare il cielo stellato. è una storia che viene da lontano, si potrebbe dire che la scienza moderna è nata quando gli scienziati, allora si chiamavano ancora filosofi della natura, hanno cominciato a guardare in maniera diversa il cielo stellato. E allora quando io penso, così senza troppo stare a ragionarci sopra, al concetto di responsabilità legato alla scienza, mantenendo sullo sfondo un cielo stellato, mi viene alla mente una bellissima frase di Milton, un grandissimo sublime poeta inglese, che nel 1600, fate caso alle date, 44, in un celebre discorso che tenne al Parlamento inglese sulla libertà di stampa contro la censura, intitolato L'Areopagitica, scrisse Fu lì, cioè in Italia, che io trovai e visitai il famoso Galileo, ormai vecchio, divenuto prigioniero dell'inquisizione, perché aveva pensato in astronomia diversamente da come pensavano i suoi censori francescani e domenicani. Allora, visto che il tema è quello della responsabilità, qui abbiamo un colpevole, in qualche senso, identificato, perlomeno secondo i criteri dell'inquisizione della Sacra Romana Chiesa di allora. Un colpevole, ma colpevole di cosa? Di aver pensato diversamente in astronomia, cioè di aver guardato le stelle diversamente da come altri, prima di lui, avevano fatto. Era semplicemente una questione di dissenso, uno le ha guardate da un punto di vista, uno le ha guardate da un altro. Ora, per quanto le istituzioni dogmatiche e tendenzialmente totalitarie, come la Chiesa Cattolica, di allora, potremmo estendere questo concetto temporale, ma non è argomento di questa serata, non tollerassero troppo il dissenso, dovremmo scavare un po' di più in quel pensare diversamente per capire effettivamente il potere eversivo che rese Galileo responsabile, tra gli altri, di una, usiamo le parole, quelle che si usano anche sui manuali, di quella rivoluzione che ha decostruito una fabbrica dei cieli, quella aristotelico-tolemaica, aprendo un nuovo orizzonte di riflessione, come vedremo in termini strettamente astronomici, ma anche in senso più lato in termini filosofici, politici, etici, morali. Ora, Galileo era ben consapevole della portata eversiva di quel pensiero diverso, di quel modo diverso con cui guardava le stelle, siccome era consapevole e era consapevole delle autorità con cui aveva a che fare, essendo anche un abile rettore, un raffinato letterato, cercava in qualche modo, Cartesio diceva l'Arvatus Prodeo, anche lui tentava di procedere mascherato e non sto facendo nulla di che, sto facendo sostanzialmente i miei calcoli. 1615, nella lettera alla Granduchessa di Toscana, in quell'epoca era già uscito da qualche anno il Siderius Nuncius, quindi in Europa il copernicanesimo era già qualcosa di più che una semplice ipotesi strampalata e rivoluzionaria, cominciavano a circolare le prime, dire avrebbe detto Galileo, sensate esperienze che aprivano all'attendibilità di una nuova ipotesi. Allora Galileo scrive a Maria Cristina di Lorena come mi ha suggerito e ho appreso da un cardinale, sempre bene partire così in questi casi, il cardinal Baronio intenzione dello Spirito Santo, parafraso un po', essere quella di insegnarci come si vada in cielo e non come vada il cielo. Cosa stava tentando di fare Galileo? Stava tentando di ritagliarsi una nicchia di libertà consapevole però del fatto, quello che appunto voleva mascherare, che nel momento in cui io, lui, cominciava a dire che il cielo, che la fabbrica dei cieli funzionava, era strutturata in una maniera diversa e quindi raccontava che il cielo andava in una maniera diversa, molto sarebbe anche cambiato sul come si sarebbe andato in cielo ammesso che ancora ci sarebbe stata una via accessibile per i cieli. Teniamo pur conto che Galileo era cattolico, anzi diceva lui cattolicissimo, non ho mai capito cosa significasse cattolicissimo, ma questo lui diceva e noi alla lettera di Galileo stiamo. Ha funzionato questo strumento retorico di Galileo? È riuscito a lavorare nell'ombra mentre smaltellando una fabbrica ridisegnava anche un orizzonte di riflessione più ampio non tantissimo ma non tanto e non solo per i fatti che arrivano alla vostra memoria rievocando le storie della sua avventurosa e per altri versi drammatica vicenda ma anche nella consapevolezza raffinata e sofisticata di un grande poeta che ho scelto apposta non solo perché è uno dei miei poeti preferiti cantori di amori profani e di amori sacri ma anche attento osservatore del dibattito tra tolemaici e copernicani sto pensando a John Donne poeta inglese il quale nel 1611 quindi addirittura prima che Galileo scrivesse quella lettera alla granduchessa di Toscana aveva contezza del fatto che il copernicanesimo stava prendendo piede e aprendo appunto un nuovo orizzonte tanto in cielo quanto in terra e così in un'opera dedicata alla morte prematura di una ragazza che lui era molto cara tale Elisabeth Drury così scriveva con quella genialità di quei grandi poeti che in un fatto nella drammacità di un fatto contingente particolare riescono a far riecheggiare un dibattito che tiene insieme l'umanità tutta così dalla sua prima ora il mondo decadde la sera fu l'inizio del giorno e la nuova filosofia the new philosophy calls all in doubt la nuova filosofia revoca tutto nel dubbio la nuova filosofia era quel pensare diversamente che vedeva Galileo condannato non so se è il mio o il tuo è il mio scusate che vedeva è Galileo che ti chiamano dall'oltre tomba perché si sente chiamato in causa sì perché Galileo è la nostra sintesi perché faceva l'astrologo faceva l'astrologo era bravissimo bravissimo i temi natali di Galileo sarebbero vendibili anche oggi era così bravo però perché devo stare sempre attento che non ci credeva agli oroscopi tant'è che Campanella lo riprese in una celebre lettera comunque e la nuova filosofia mette tutto in dubbio il sole è perso e la terra e nessun ingegno umano può indicare all'uomo dove cercarlo e apertamente gli uomini confessano che questo mondo è estinto quando nei pianeti e nel firmamento ne cercano tanti nuovi riecheggia la consapevolezza di quelli che i tedeschi chiamano unheimlichkeit che letteralmente è difficile da tradurre in italiano ma vorrebbe dire il non sentirsi più a casa cioè il decostruire lo smontare quella fabbrica dei cieli ha prodotto un profondo raricale disorientamento ha fatto venire meno quelle categorie che non solo in cielo ma in terra consentivano agli esseri umani di orientarsi non tanto e non solo nello spazio ma quanto nel pensiero nella modalità di dare un senso e un significato alle cose e apertamente gli uomini confessano questo l'ho già letto vedono che questo mondo si è sgretolato tornando ai suoi atomi è tutto in pezzi scomparsa ogni coesione ogni giusto sostegno e ogni relazione principe padre figlio sono cose dimenticate poiché ogni uomo per suo conto pensa di dover essere una fenice questa è la condizione del mondo aveva capito tutto John Donne aveva capito che la radicalità del pensiero di Galileo stava non solo e non tanto smontando una fabbrica dei cieli ma stava fornendo all'umanità nuove categorie di pensiero nuove categorie per dirla con Platone attraverso cui si sarebbe potuto salvare i fenomeni cioè conoscere il mondo indagare quel grande libro diceva di Galileo riferendosi alla natura che è scritto in caratteri matematici e solo chi sa la matematica può avviarsi alla lettura si stava definendo un nuovo modello di sapere e questa è la cosa importante che ci riporta profondamente al tema della responsabilità un nuovo modello di sapere profondamente strutturalmente anti-autoritario nella lettera Maria Cristina di Lorena se voi andate a rileggerla Galileo spiega che il ricercatore pur in quel suo spazio apparentemente innocuo in cui lavora è tanto libero in quanto competente e in quanto competente è libero se non fosse competente non sapesse leggere quel grande libro del mondo che è scritto in caratteri matematici sarebbe costretto parole di Galileo a seguire le pedate altrui ovvero traduco a tenere per buono ciò che qualcuno ha detto in nome di un'autorità l'ipsedixit di Aristotele o qualsiasi altra forma di autorità più o meno personificata più o meno sacra più o meno laica nella repubblica delle lettere diceva Galileo cioè quella che oggi noi chiamiamo la comunità scientifica non si decide per alzata di mano sensate esperienze certe dimostrazioni nella repubblica delle lettere tu sei un cittadino della repubblica nella misura in cui fai tuo il diritto e il dovere di condividere di pubblicare un'ipotesi esibendo le tue argomentazioni le tue evidenze empiriche sottoponendole al giudizio degli altri e gli altri hanno il diritto dovere di chiederti conto delle tue ragioni e dentro quella repubblica dentro quella repubblica non c'è autorità che tenga badate neanche quella della maggioranza una maggioranza di nuovo Galileo per il semplice fatto di essere maggioranza non ha alcuna autorità di schiacciare una minoranza un grande segnamento che è filtrato come è stato più da più parti filologicamente mostrato anche nelle più sofisticate formulazioni delle democrazie moderne a partire dalla importantissima e fondamentale dichiarazione di indipendenza americana jefferson per esempio era un grande lettore dei protagonisti dei grandi campioni della rivoluzione scientifica ma allora di nuovo e qui vado verso la chiusura per passare la palla al dottor pesatori qual è il problema della responsabilità il problema della responsabilità è che nella comunità nella repubblica delle lettere laddove ti si chiede e devi sentirti in dovere di esporre le tue ragioni in quel contesto in cui non c'è altra autorità a cui delegare il senso della tua esistenza o le verità di un'ipotesi scientifica sei tu che devi assumerti il peso di fartene carico non c'è non c'è delega non c'è in una conferenza tenuta nel 1963 da uno dei più grandi fisici della contemporaneità che si chiama Richard Feynman a una platea diciamo eterogenea non di specialisti Feynman scriveva questa libertà questa profonda libertà di dubitare radicalmente su tutto di non assumere nulla se non ciò che sia stato in qualche modo supportato soffrogato da evidenze da argomentazioni questa libertà di dubitare è fondamentale nella scienza e credo anche in altri campi c'è voluta una lotta di secoli per conquistare il diritto al dubbio che se lo leggete dall'altra parte è la responsabilità di caricarsi il peso del dubbio sulla propria coscienza visto che non si può più scaricarlo su nessun'altra cosa c'è voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al dubbio all'incertezza vorrei che non ce ne dimenticassimo e che non lasciassimo pian piano cadere la cosa prima di Feynman e adesso credo che il mio tempo sia esaurito quindi passo la parola immediatamente a Marco sai che hai un bel senso del tempo eh vedi questa modalità di pensiero questa approccio a una responsabilità infondata in qualche senso ingiustificabile tornerò magari nel secondo intervento su questo termine una responsabilità ingiustificabile che pesa e che dimostra quanto sia pesante la libertà lo diceva Lutero più o meno poco prima la libertà è terribile perché ti schiaccia nel peso della responsabilità di una scelta di una valutazione è stata una delle categorie fondamentali che ha contribuito non sola ovviamente a inaugurare e qui so di servire sul piatto d'argento un argomento a Marco ma ovviamente non lo faccio in maniera molto ingenua ha costituito la base di quella grande avventura di idee che è stato l'illuminismo per lo meno inteso in questo senso l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui stesso è tanto comodo essere minorenni se ho un libro che pensa per me un direttore spirituale che ha coscienza per me un medico che decide per me sulla dieta che mi conviene eccetera io non ho più bisogno di darmi pensiero da me purché io sia in grado di pagare non ho bisogno di pensare altri si assumeranno per me questa noiosa occupazione a far sì che la stragrande maggioranza degli uomini e con essi tutto il bel sesso si riferiva quindi anche alle donne ritenga il passaggio allo stato di maggiorità oltre che difficile anche molto pericoloso ecco la vera responsabilità di Galileo qui raccolta per lo meno dal punto di vista che abbiamo sottolineato in questi pochi minuti magistralmente da Kant in quel saggio famoso su che cos'è l'illuminismo la grande responsabilità di Galileo è di avere innescato il germe di quel pensiero che è tale quando si espone al pericolo un grande poeta tedesco che si chiamava Gottfried Ben diceva il vero pensiero è sempre pericoloso è sempre in pericolo la distinzione tra i due l'essere pericoloso ed essere in pericolo è molto sottile lì si gioca la responsabilità quella responsabilità che non si può più delegare da quando Galileo è stato condannato da quando l'approccio critico scientifico filosofico chiamatelo come volete ha decostruito quella fabbrica dei cieli che molte deleghe ha rappresentato e per altri versi continua ancora ad altri minorenni a garantire è stato bravo allora questo è tuo non confondiamo i falli intanto ho visto se non sbaglio barcollante triste perché è un capricorno poverino il ciclista con la maglia rossa e blu se non sbaglio è entrato non vi dico di girarvi perché l'immagine è pietosa ma è arrivato in bicicletta da Genova come tutti i capricorni questi ciclisti del capricorno a differenza del ciclista del leone che tira che va avanti tira tutto il gruppo Fignon era un grande ciclista del leone che si sacrificava in questa grandeur il ciclista del capricorno sale nella montagna con questo viso sofferente lento faticoso duro e va avanti a soffrire per tre giorni di fila è questa genitura che poi appartiene anche a tanti scienziati storici Newton che plero erano tutti del capricorno però mi è piaciuto il discorso noi siamo apparentemente diversi nella sostanza abbiamo due piedi due gambe tutte e due siamo uguali quindi lo scienziato non è non è così come dire diverso dalla come potrei chiamare qui perché come ho detto prima dalla e uso il termine che ho usato prima non c'è questa così grande differenza perché di fronte al silenzio e alle luci e al buio del cielo beh l'uomo è portato naturalmente a far sorgere proprio quella domanda che anche lo scienziato o la scienza solleva ininterrottamente direi proprio come status cioè il tema del dubbio quindi ciò che poi le stelle rimandano è proprio una domanda raddoppiata alla domanda dell'uomo quindi cominciamo con una premessa non esiste l'astrologia delle risposte guardatevi bene a parte come ho detto prima che non esistono gli astrologi in Italia ne esiste uno solo di astrologo e l'ho citato prima è Fix Fax e Fox e quindi non ci sono altri astrologi B fare l'astrologo come ho detto prima è simile a far la zoccola quindi non esiste l'astrologo di per sé però la domanda su che cos'è l'astrologia anche in relazione al tema della responsabilità della verità della scienza è una domanda assolutamente lecita perché l'astrologia ha attraversato tutta l'età dell'uomo quindi appena l'uomo è nato un po' ha guardato davanti a sé un po' ha guardato sotto i suoi piedi ma a un certo punto poi ha alzato gli occhi al cielo ed è lì che nasce l'astrologia cioè nel momento in cui l'uomo cerca di interpretare un linguaggio un discorso cioè quelle luci che sono nel cielo stanno facendo un discorso parlano per l'uomo che è appena nato che è appena visto il buio arrivare dopo il sole ecco in quel momento nasce l'astrologia che poi diventerà una disciplina che attraversa tutte le civiltà antiche in tutti i luoghi della terra la sud America all'Oriente all'Occidente attraverserà partendo dai Sumeri l'Egitto la Grecia la civiltà araba fino a arrivare a diventare una disciplina devo stare attento a nominarla scienza ancora una disciplina centrale nel Medioevo e poi direi assolutamente centrale la scienza nel Rinascimento nel Rinascimento l'astrologia è la scienza centrale chiunque debba fare occuparsi di qualunque cosa deve fare in qualunque università della terra l'esame di astrologia lasciamo stare l'Oriente dove dove questa attenzione osti io ho perso il cronometro Stefano siccome non ho il senso del tempo che hai te io guarda guarda che sta andando siamo 21 tu hai sforato di 4 minuti buoni quindi io ne ho 19 perché adesso mi hai fatto perdere il filo però non farmi gli scherzetti magici Stefano tutte le civiltà hanno visto l'astrologia come disciplina scienza centrale e nel Rinascimento diventa proprio la scienza pensate a Giordano Bruno Giordano Bruno che era anche un po' un fisico quantistico perché nel momento in cui parla ininterrottamente di quello che adesso si chiamerebbe l'entanglement cioè questa correlazione di tutto con tutto e che in ogni dettaglio c'è tutto e che tutto è in relazione a tutto e che i mondi sono infiniti beh Giordano Bruno sta facendo in un certo senso il discorso della scienza della fisica quantistica attuale ma pensate a Pico della Mirandola che anche se ha scritto contro gli astrologi giustamente perché non c'è malattia peggiore e su questo Stefano siamo d'accordo che l'essere astrologo e quindi Pico ha scritto contro gli astrologi non di meno si intendeva molto bene di astrologia così come Campanella e così come appunto il grandissimo cento anni prima Marsiglio Ficino che aveva la classe direi superiore a un freudiano certamente a un lacaniano senz'altro a uno junghiano ecco sembra un po' junghiano Marsiglio Ficino faceva un'astrologia molto magico psicanalitica sull'erbetta della sua accademia di careggi dove si stava molto bene si cucinava anche molto bene e ti consigliava i colori sono molto belli anche l'uso che faceva dell'astrologia Marsiglio Ficino è bellissimo è dolcissimo ecco tutto il rinascimento è attraversato da questa centralità dell'astrologia che poi viene come dire relegata appunto dall'irruzione di questo dominio della ragione dell'illuminismo nel settecento nel seicento nel settecento nell'ottocento fino poi a ripresentarsi prepotente direi anche grazie a Freud e Jung che ripropongono in una maniera potente il tema del linguaggio del simbolo dell'importanza del linguaggio del simbolico e quindi anche grazie a Jung e a Freud ma tutto un movimento che cresce che il mio amico Stefano chiamerebbe irrazionale anche di fine ottocento cresce e ritorna prepotentemente nel novecento ma l'astrologia del novecento chiaramente non è la vecchia astrologia anche perché abbiamo detto che gli astrologi non ci sono l'astrologia del nevocento se si può direi immaginare è appunto un'astrologia che si guarda bene dal dare delle risposte secche e chiare che cos'è l'astrologia beh l'astrologia è il fatto che le stelle in qualche modo ci dicono qualcosa così come la realtà ci dice qualcosa tutte le manifestazioni che sono al di fuori di noi ci raccontano qualcosa e ci dicono qualcosa l'animo dell'uomo tende a proiettare sul mondo esterno i suoi stati d'animo e quindi certamente l'astrologia il discorso degli astri non è altro che il discorso dell'animo umano proiettato nell'interpretare questi disegni del cielo che sono disegni dell'uomo quindi attenzione l'astrologia non è il discorso delle stelle l'astrologia è il discorso dell'uomo che interpreta che interpreta un disegno del cielo ma qual è la particolarità la stranezza la curiosità per cui io un po' spudoratamente senza farmi sentire da moriggi però definirei l'astrologia come scienza del tempo con la T maiuscola la scienza del tempo proprio perché in questa proiezione del nostro sentire degli stati d'animo delle emozioni di ciò che viviamo delle nostre passioni ma anche della nostra lettura degli eventi virgolette oggettivi fino a che punto sono oggettivi gli eventi e fino a che punto gli eventi oggettivi in realtà non comportano una lettura nostra proiettiva cioè soggettiva bene la grande scoperta stranezza che mi fa dire che l'astrologia possa essere definita la scienza del tempo è che c'è una sincronicità temporale tra questo sentire degli eventi soggettivo e l'oggettività di un tempo che è il tempo del movimento celeste cioè la scienza astrologica che di anni ne ha 6.000 non ne ha 400 come il nostro positivismo ne ha 6.000 l'astrologia nasce anche da quattro pazzi perché erano matti per essere astrologi bisogna essere matti che mentre gli altri facevano i guerrieri i contadini tiravano su le case erano concreti pratici questi pazzi stavano fermi a guardare il cielo se voi vi mettete qui alla Spezia alle 5 terre a guardare il cielo e state fermi a guardare il cielo per una notte per 10 notti per 100 notti per 10 anni senza muovervi di lì per mille anni possibilmente fermi nell'antichità vi sareste chiamati sacerdoti ma non con questa sfumatura un po' pesantuccia che è adesso potremmo chiamarli pazzi matti che guardavano il cielo ma standoli fermi a guardare per anni 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 e secoli il cielo hanno scoperto delle leggi che erano le leggi che facevano nascere l'astronomia ma la differenza tra l'astronomo e l'astrologo era che per gli astrologi immediatamente si creava una correlazione tra quel movimento ritmico di un orologio complesso e il vivente sulla terra a un determinato transito di Marte di Giove succedeva ripetutamente qualcosa che corrispondeva sempre a quella sfumatura legata a un Marte o a un Giove questa ripetitività trova a buon diritto il nome di scienza l'astrologia e la scienza del tempo nel momento in cui studia la correlazione che c'è tra il grande orologio e il celeste e ciò che vive in questo momento in questo medesimo tempo sulla terra c'è questa sincronicità questa è l'astrologia è inutile dire scienza o non scienza una scienza va verificata quindi è inutile dire o non dire che l'astrologia è una panzana prima la si studia si verifica la sua verità questa sincronicità va verificata e dopo discuteremo se è una scienza o no vorrei leggere perché anche lui mio amico qua a sinistra con cui ci scontreremo sai che ci scontreremo magari anche in radio sarebbe bello fare una trasmissione io e te magari la facciamo così li teghiamo ogni volta come tu hai letto che io vorrei leggere un pezzettino di Jünger che è molto bello riguardo l'astrologia per chiudere questo mio intervento iniziale scrive Jünger al muro del tempo che è edito da Delphi vedendo considerare ambiti temporali metastorici l'astrologia riunisce tre grandi vantaggi essa prende le mosse dalla dimensione massima possibile dall'estensione dell'universo si astiene inoltre si attiene all'orologio più grande e insieme più preciso sul cui movimento si basa ogni unità di misura e ogni calcolo del tempo il ciclo delle rivoluzioni cosmiche infine dispone di un quadrante suddiviso in qualità che non frammenta il tempo in modo uniforme e monotono ma sul quale le ore si susseguono senza essere per questo uguali l'una all'altra e immagini potenti profondamente radicate si danno vicendevolmente il cambio questa unione di ampiezza precisione e pienezza fornisce il modello di una forma superiore di considerazione del tempo qualunque cronaca terrena ha qui non solo la propria origine ma anche la propria misura costante con questo non siamo obbligati a riconoscere come valido nell'astrologia quel che comunemente ne costituisce l'attrattiva vale a dire le sue asserzioni e i suoi pronostici applausi non andiamo avanti oltranza affinché qualcuno ci faccia dei semu perfetti siamo perfetti siamo due pronome io credo che si sta definendo lo spazio diciamo così concettuale oltre che fisico in senso astronomico del nostro contendere 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 tendere tendere con insieme insieme avete sentito cosa ha detto Marco ha detto che l'oggetto dell'astrologia così come lui la intende è lo studio permettimi semplifico a brevio in maniera rozza della correlazione della corrispondenza forse non sono parole adeguate ma tra il grande orologio che funziona e ciò che vive sulla terra ma prima ha detto e me lo sono appuntato credo alla lettera che studiare questo significa studiare il discorso dell'animo umano sugli astri cioè quel discorso umano che viene proiettato sugli astri non è la stessa cosa che fa Galileo per quanto si possa discutere a lungo sull'oggettività dei fatti che ormai dico ormai è un mito anche per gli scienziati ma non è mai stata davvero se non per alcuni folli una religione professata quindi una discussione neanche da da iniziare è indiscutibile il fatto che la tendenza dello scienziato che ha per oggetto la natura e in questo sede in questo momento poniamo le stelle lo studio di come vanno i cieli e non di come gli uomini interpretano certi movimenti proiettando dei significati o riconoscendo dei simboli sui cieli è uno sguardo completamente diverso è uno sguardo completamente diverso che non può neanche essere interpretato come molti fanno agli scienziati o i filosofi della scienza sono quelli che intrappolano incatenano la natura con come diceva Novalis con l'arido numero e la rigida misura e dall'altra parte invece c'è un approccio qualitativo no? anche questa è una distinzione molto vecchia molto vecchia che non regge e regge solo nella prospettiva di chi poco conosce la scienza dall'interno quello che la scienza tenta di fare è ridurre l'arbitrio nella comprensione dei frenomini cosa diceva prima Feynman ci abituiamo a vivere nell'incertezza muovendoci in questo nuovo orizzonte aperto da quel pensare diversamente inaugurato diciamo per comodità stasera da Galileo e dobbiamo stare molto attenti e questo è l'esercizio di tenere la responsabilità su di noi e non delegarla perché delegarla è facilissimo scivolare è facilissimo anche usando semplicemente dei termini prendiamo un termine apparentemente neutro dico molto apparentemente neutro il termine natura un termine pericolosissimo io quando lo sento usare comincio a tremare se poi sento dire contro natura o secondo natura il nervosismo sale nel 1800 quindi facciamo un salto in avanti circa metà del 1800 un grande filosofo potremmo dire della scienza un epistemologo ma anche un filosofo della politica non è non è secondario sottolineare questo così come non era secondario sottolineare l'ammirazione di Milton per Galilei che è John Stuart Mill scriveva un bellissimo saggio che si intitola sulla natura raccolto in una silloge il cui titolo generale anche questo andrebbe tenuto conto è saggi sulla religione Mill scrive le parole natura naturale e il gruppo di termini che ne derivano o che ne hanno a fine l'etimologia hanno sempre avuto in ogni epoca grande importanza per il pensiero e hanno esercitato una forte presa sui sentimenti dell'umanità ciò non sorprende dove si consideri quello che tali parole rappresentano nel loro significato primitivo e più ovvio ci si può tuttavia dolere che in un insieme di termini che hanno una parte così importante nella speculazione morale e metafisica abbia acquistato tanti significati diversi da quello originario abbastanza legati però adesso si da in generare confusione questi sentimenti stratificatisi attorno alle interpretazioni distorte della parola natura questi sentimenti hanno trasformato il termine natura in una delle fonti più copiose di cattivo gusto di falsa filosofia di falsa moralità e di cattive leggi allora in questo saggio mille si impegna a tentare di scrostare questi anomali e impropri sedimenti di significato dalla parola natura ma come fa a farlo quali strumenti di quali attrezzi si munisce per decostruire la parola di tutti questi significati che hanno prodotto cattivo gusto falsa filosofia falsa moralità e perfino cattive leggi ricorre agli strumenti della scienza non già perché ne garantiscono un'oggettività del significato ma perché è lo strumento più potente per fare i conti con le proiezioni direbbe direbbe Marco proiezioni che possono essere intenzionali allora possiamo chiamarle ideologia proiezioni che possono essere non intenzionali possiamo chiamarla psicologia semplifico in maniera rozza è il tentativo di comprendere il mondo per quello che è al di fuori di noi pur nella consapevolezza che è compreso da noi che di quel mondo siamo parte è un gioco ipersofisticato molto delicato che vincola a sé il soggetto e l'oggetto in questo esercizio di critica e dunque di crescita della conoscenza non abbiamo il tempo per entrare nelle pieghe di questo saggio ma ve lo riassumo molto rapidamente mi dice allora se io devo utilizzare il metodo scientifico per tentare di restituire la parola il significato vogliamo dire originario diciamo quello più autentico quello che più ci avvicina alla comprensione di quel grande libro del mondo beh osservo i fenomeni ne studio come diceva Marco prima le irregolarità o le irregolarità e tento in alcuni casi ci riesco in altri no in altri sbaglio allora le rivedo metto tutto in discussione perché questo è il mio dovere di mettere in discussione proprio quello in cui apparentemente mi fido di più però a un certo punto riesco a ottenere delle generalità che chiamo leggi e che posso definire leggi di natura sto molto riassumendo mi scuserete di questo allora natura è ciò che io posso esprimere o che riesco a esprimere nei termini di leggi di natura è un primo approdo della sua riflessione però dice un momento forse non è sufficiente perché effettivamente se io osservo anche le persone che parlano attorno a me quotidianamente noto che la parola natura è usata anche in contesti apparentemente lontani che questa mia definizione esclude o comunque non comprende per esempio natura è usata come contraltare della parola arte o artefatto o artificiale allora dice e questa mia definizione riuscirebbe anche a tenere dentro questa contrapposizione di significati che è una contrapposizione culturale di modi di intendere la parola natura e la parola artificio allora Mill dice ma dunque se natura è ciò che io riesco a esprimere in leggi di natura devo andare a vedere se ciò che io comunemente considero artificiale può essere spiegato attraverso le stesse leggi di natura con cui spiego quello che io tradizionalmente considero naturale e allora lui fa molti esempi una nave sta a galla per le stesse leggi del peso specifico e dell'equilibrio che fanno galleggiare un albero sradicato dal vento e cittato nell'acqua il grano che gli uomini coltivano per cibarsene cresce e produce le spighe per le stesse leggi della vegetazione che fanno fiorire e fruttificare la rosa selvatica anche la volizione che progetta e l'intelligenza che organizza e la forza muscolare che esegue questi movimenti sono essi stessi poteri della natura non c'è bisogno di leggi qualitativamente diverse le stesse leggi che spiegano come galleggia una nave sono le stesse leggi che spiegano come galleggia un tronco che un fulmine ha fatto precipitare nel fiume e allora se la stessa definizione mi spiega ciò che tradizionalmente considero naturale ciò che tradizionalmente considero artificiale vuol dire che quella distinzione è destinata a collassare che quella distinzione non è nella lettura dei fatti ma è una proiezione destinata a collassare va messa radicalmente in discussione perché è interessante vedere come sia sottile e corrosivo questo esercizio vedete che anche sulle parole sui concetti che noi usiamo nella vita di tutti i giorni e questo spiega perché Feynman prima diceva come l'esperienza scientifica sia importante non solo per chi fa questa professione ma per chiunque voglia avere l'esperienza di essere maggiorenne per dirla con Kant al di fuori del contesto scientifico perché poi su questo mi piace insistere la scienza non è solo un insieme di regole di formule di teoremi di concetti è una mentalità la scienza in questo senso è cultura cosa che in Italia facciamo ancora fatica a capirla in Italia è il paese in cui ci si può vantare di non sapere risolvere un'equazione di secondo grado ma ci si va ma ci si va a nascondere dietro l'angolo se invece si è dimenticato qualche canto della divina commedia è un'anomalia tutta italiana questa purtroppo infatti quando a Feynman chiedevano ma secondo lei la nostra è un'epoca scientifica diceva no ovviamente no diceva come la scienza ha fatto un successo dopo l'altro la fisica la biologia dice sì quelli sono i successi degli scienziati ma la nostra non è un'epoca scientifica perché la mentalità scientifica a fatica esce dai laboratori scientifici e questa lezione che veniva dagli Stati Uniti negli anni 60 drammaticamente vale ancora per l'Italia e mi spiace dirlo per le scuole italiane dove le materie scientifiche sono ahimè distrattate ma ma e vado a chiudere ho ancora aspetta perché prima da futuro astrologo devo fare una previsione sì te tra dieci anni ahia sarai ministro della cultura questa la fai è una minaccia bravo non so chi è una minaccia facciamo un'ora di astrologia ai licei la mia risposta potrebbe essere riverente ma se la fai tu la sorbona l'ha fatta se la fai tu la metto subito al posto della religione però questo bravo ti devo 50 euro l'avete sentito allora torniamo a Mil 5 minuti la distinzione naturale artificiale crolla ma se crolla che cosa significa questo è interessante il fatto dice Mil tenendo conto del percorso che ha fatto nel suo saggio che io vi ho così riassunto il fatto che un qualsiasi modo di pensare di sentire o di agire sia secondo natura è abitualmente considerato come un solido argomento a favore di esso come vedete un vizio molto vecchio se si può dire in maniera abbastanza plausibile che la natura ingiunge alcun che la maggior parte delle persone considererà giustificato il farlo perché è naturale e allora se è naturale è bene farlo ma perché è bene farlo perché è naturale e quindi se è naturale è bene e viceversa si ritiene sufficiente l'accusa che un'azione sia contraria alla natura per toglierle qualsiasi pretesa di essere tollerata o scusata e il termine contro natura non ha cessato di essere uno degli epiteti più ingiuriosi e anche qua abbiamo molti esempi anche nella contemporaneità tutto ciò che è identificato come contrario a un qualche ordine della natura va visto perlomeno con sospetto hai il tempo? è il gong ok allora chiudo su questa frase poi se ci sarà tempo aggiungerò qualcosa coloro che fanno uso e qui torniamo al Galileo di partenza e alla sua responsabilità mi hai fatto pigliare 142 appunti Fisget eh vabbè è il mio mestiere segna poi proseguiamo dopo coloro che fanno uso di queste espressioni secondo natura e contro natura possono con ciò evitare la responsabilità di costruire qualche teoria fondamentale circa il tipo di obbligazione morale ma non di meno la implicano hanno delegato di nuovo semplicemente usando il termine natura in maniera del tutto ingiustificato non si sono fatti carico del peso di portare l'argomentazione della bontà di un'azione in quanto buona hanno cercato la giustificazione al di fuori in un qualche ordine naturale in una qualche distinzione culturale che quando va bene è una proiezione quando va male è una vile ideologia somministrata a una platea che non sempre sa essere maggiorenne come Kant avrebbe voluto che fosse scusa hai mai visto Cassius Clay che applaude Mike Tyson durante l'incontro Clay Tyson questa è la prima volta vedi sai che hanno scommesso su di noi sì hanno scommesso ma per me perde comunque quello che ha scommesso no perché qui hai dato quando tu parli del naturale mi hai fatto in mente anche Hegel quando Hegel parla dell'immediatezza perché il naturale in termini astrologici per gli astrogici per lui ci sono tanti appassionati di astrologia è come dire pesci noi lo chiamiamo pesci il naturale Hegel lo chiamava l'immediato per i pesci Schopenhauer era dei pesci per i pesci tutto c'è e l'immediato Hegel invece era opposto dei pesci Hegel era della vergine quindi vedeva l'immediato e il naturale come fumo negli occhi dice Hegel che l'immediato è il puro essere indeterminato vale a dire che non esiste e quindi il percorso per la vergine Hegel della consapevolezza è proprio la negazione di questa immediatezza naturale e quindi Hegel poi ci porta il concetto di negativo das negative che das negative è anche tedesco che per gli astrologi è simboleggiato il negativo dallo scorpione l'azione simbolica del simbolo scorpione nel cerchio zodiacale è proprio quello di rappresentare la vitalità del negativo rispetto all'immediatezza naturale prima dei pesci la naturalità dei pesci intesa proprio come questa immediatezza di un grande sentire cosmico e caotico che è il prima che tutto ciò esistesse invece la naturalezza di un altro simbolo astrologico che è il toro che è più fisica più naturale intesa in una maniera come intendiamo noi la naturalità quasi corporale quasi fisica il simbolo toro si piglia nello zodiaco l'opposizione dello scorpione che è il simbolo del negativo quindi invito gli aficionados astrologici a riflettere su questa positività della negatività scorpionica perché lo scorpione è quello che rimette in vita rimette in gioco simbolicamente il cerchio della vita simboleggiata dai dodici segni zodiacali una variazione sull'immediatezza tornando all'astrologia la responsabilità dell'astrologia quanta verità c'è negli oroscopi? Violento zero mi sembra un grande terzino degli anni sessanta del Milan che si chiamava Anquilletti detto il killer che ogni entrata spaccava una gamba adesso zero io direi che gli oroscopi invece io posso parlare ad esempio posso dire che l'ariete l'assoluta erruenza calda bollente immediata che all'ariete si oppone la bilancia che invece la compostezza di una simmetria di una visione estetica e dalla dialettica riete bilancia dove la bilancia dice all'ariete trova il tuo posto salta fuori il toro che dice tutto tranquillo questo è il mio posto questo è mio questa è la mia forchetta questa è la mia fidanzata qua è a chi mi tocca il mio ma opposto al toro c'è lo scorpione che è come Godzilla e dice cosa fai lì ma che palle sempre con il tuo orticello vicino e dalla dialettica toro scorpione salta fuori il gemelli che l'ha messo in moto qualcuno lo scorpione diceva al toro muoviti 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 e dalla dialettica toro scorpione salta fuori il gemelli che si muove che si muove che si muove ma vai più lontano muoviti del tutto vai e allora il gemelli diventa il cancro che dice basta io voglio la mia mamma adesso e come Proust dice e dice adesso vado a dormire dice Proust vado a dormire voglio dormire il cancro il problema del cancro è il sonno opposto al cancro c'è il capricorno cioè Newton e Keplero cioè il piccolo Newton che a 5 anni doveva costruire le casette per le bambole per tutte le bambine del paese e quando tornava a casa il padrino lo menava la matrigna lo menava perché è il destino dei capricorni è la legge di questa durezza della vita e allora dalla dialettica anche il nostro amico è il capricorno quello della bicicletta è il sacrificio duro del ciclista che si è fatto tutte le salite e più soffre più gode dalla dialettica cranco capricorno salta fuori l'acquario che è la sparizione assoluta e totale cioè è talmente autonomo e indipendente che non si sa neanche dove è andato e opposto all'acquario c'è il leone che invece è un cancro che finalmente si è svegliato è diventato grande e che si sveglia al mattino e dice non c'è altro dio lì fuori di me sono ne in bocchino ma opposto è una gag Stefano scusa di bassa lega è come un colpo sotto la cintura ma opposto al leone c'è l'acquario che dice dove vai leone ma che palle guarda che siamo in tanti non sei da solo e allora il leone diventa una vergine e dice è vero siamo in tanti e io sono l'ultima ruota del carro questa è l'astrologia degli oroscopi quindi non è vero che l'astrologia generica è falsa o è zero diciamo che è molto approssimativa cioè approssimativa vuol dire vicina al vero ci manda il profumino dell'arrosto ma non è l'arrosto l'arrosto astrologico è l'arrosto della scienza del tempo cioè del tema natale personale lì è una lettura che potremmo dire è una lettura del nostro DNA in altre modalità in questa modalità simbolica che io non vedo l'ora dei simboli del linguaggio dei simboli che non vedo l'ora che qualche scienziato se ne occupi se ne sono occupati molti poeti molti scrittori pensiamo a Pessoa ad esempio era un grande appassionato di astrologia ci sono molti fisici quantistici che si occupano di astrologia ma io spero in un matematico che finalmente ci spieghi i segreti dell'astrologia la posizione di questo suddetto futuro misterioso astrologo però parte proprio da quello che ci ha detto Stefano cioè il tema radicale dell'etica e della responsabilità che è quella per cui di fronte a un qualche accenno il migliore astrologo è quello che non fa le previsioni è quello che ascolta è quello che sta zitto e che chiunque va da un astrologo deve tornare a casa con le domande triplicate questo è il lavoro del vero astrologo guardatevi bene dalle sentenze dell'astrologia perché il vero lavoro astrologico è proprio questo lavoro sulle proiezioni tenendo conto di questa oggettività di questo virgolette tempo che è un tempo con la T minuscola non con la T maiuscola il tempo con la T maiuscola è simboleggiato in astrologia dal cerchio zodiacale vuoto il cerchio zodiacale vuoto è l'astrologia priva dell'individualità del carattere che in astrologia è segnalato dal nostro individuale tempo il nostro tempo individuale che fa sì che io abbia il sole in cancro la luna in capricorne marte in scorpione questa mia individualità è inserita in un in una oggettività di vuoto che è simboleggiata dal cerchio zodiacale vuoto è un po' come dire che lo stardust la polvere di stelle dell'astrologia del nostro tema natale che pur ci dice tante cose sul nostro carattere pensate non so a un gemelli ascendente scorpione potremmo fare una conferenza di otto ore su questo carattere e tutti si riconoscerebbero i gemelli ascendente scorpione ma quello che voglio sottolineare è il fatto che la vera postura dell'astrologo è quello di stare in sintonia con quel cerchio zodiacale vuoto dove la polvere di stelle dell'individualità dell'ego si deposita lì in questo vuoto noi ritroviamo il concetto di mens rinascimentale che in cinese si chiamerebbe chan in questa posizione di chan o di mens noi non facciamo sorgere lo stardust delle nostre proiezioni l'oggettività è lì e stiamo molto attenti a dare dei giudizi in questo senso questa poi ho finito anch'io questa relazione tra la polvere di stelle dell'individualità e l'oggettività del buio del cerchio zodiacale vuoto noi possiamo vedere solo la luce delle stelle solo se abbiamo la consapevolezza del buio si potrebbe paragonare a quello che siccome Stefano mi gioca su canti io ho giocato su Hegel che è quello successivo sui concetti di di cosa per Hegel usava due termini Hegel per nominare la cosa uno era il tedesco ding che sarebbero le cose il bicchiere la bottiglia la scarpa sua e mia queste sono cose le ding l'amore il fidanzato l'uomo della mia vita queste sono tutte cose ding e poi c'è il concetto di zach di la cosa per Hegel ecco la cosa è un po' paragonabile in astrologia al cerchio zodiacale vuoto ecco io direi che il senso nostro di responsabilità sta proprio in questo lavorare sulla pulizia della polvere di stelle dello stardust dell'individualità dell'io dell'ego delle proiezioni delle cose delle ding e lavorare in questa ripulitura fino a riverberare il senso di una di una pulizia della mens quasi di una mente che diventa uno specchio ed è quel punto di partenza il prerequisito secondo me di qualsiasi scienza e ci farei una codina proprio citando ancora Hegel quello che era la scienza per Hegel nella fenomenologia dello spirito a proposito di questa dialettica tra la cosa e le cose che ci catturano che ci assorbono che ci fanno perdere e che ci fanno smarrire quel grande punto di domanda che era il concetto di Sake il concetto di cosa di questa cosa qui che è un grande punto di domanda diceva Hegel invece di penetrare nell'immanente contenuto della cosa l'intelletto quel tipo di intelletto trascura sempre l'intiero e si colloga al di sopra del singolo essere determinato di cui discorre il che vuol dire che non lo vede per contro il conoscere filosofico esige che ci si abbandoni alla vita dell'oggetto oppure che è la stessa cosa che se ne abbia dentro l'intima necessità se noi non abbiamo non amiamo la cosa non abbiamo dentro la sua intima necessità nessuna scienza è possibile volevo aggiungere non so se c'è adesso ci spiegheranno se sono previste delle domande noi siamo qui a disposizione volevo aggiungere una cosa intanto che questa notizia ci arriva ho preso atto con piacere che questa astrologia sofisticata non fa previsioni la scienza si non solo quelle che vi aspettate ma anche alcune insolite allora se voi volete massimizzare le probabilità di trovare l'uomo e la donna della vostra vita l'uomo o la donna non dovete andare dall'astrologo mi pare evidente dopo tutto quello che avete detto stasera l'ha detto pure lui dovete andare da un logico matematico l'astrologo vi distrugge l'idea dell'uomo ideale d'accordo e quindi poi ne trovate tre d'accordo il migliore il migliore possibile vi spiego come vi interessa? quindi c'è molta gente in cerca mi pare di capire molto bene non trovate mai l'uomo ideale perché è la fine no ideale il migliore possibile insomma quello praticabile quella sopportabile usate voi allora posto che posto che viviamo le nostre esistenze giocano tra zero e uno estremi esclusi cioè ipotizziamo di vivere in un mondo così come Feynman lo descriveva in cui è l'incerto che è in regola noi escludiamo l'uno cioè la certezza assoluta di un evento zero l'impossibilità di un evento esistono eventi più o meno probabili ma non eventi che accadono certamente o eventi che certamente non accadono bene allora me ne ho qua riproposto una versione semplificata ma se voi andate è qualitativa quindi non farò ne alcuna dimostrazione ma se voi andate su qualsiasi manuale di calcolo delle probabilità potete trovare i dettagli e applicarvi con quel costrutto che mi pare di aver recepito dalla sala essere diffuso ora massimizzerete ricordatevi che se stiamo parlando sempre in termini di probabilità quindi non diamo la certezza di ok ma massimizzare le probabilità di qui sei astrologico no hai detto la previsione sì una previsione in termini probabilistici questo mi pare scontato per uno scienziato allora massimizzerete la vostra probabilità di incontrare la compagna o il compagno diciamo migliore per intenderci se uscirete con il 37% dei candidati o delle candidate che voi immaginate di poter frequentare a calapiare nella vostra esistenza scegliendo poi il primo migliore dei 37% che avete conosciuto prima ora quel 37% è praticamente l'approssimazione del numero irrazionale uno su e se andate dall'astrologo risparmiate 13 passaggi perché facciamo la comparazione se andate dallo scienziato risparmiate sulla fattura però questa che può sembrare una follia e un'astrosità e per qualche verso lo è non lo è affatto perché è un gioco di probabilità non ho qui il modo e il tempo di starvelo a dimostrare ma voi provate a ipotizzare è anche credo un numero per alcuni ragionevole per altri auspicabile che in vita vostra potete riuscire ad accompagnarvi con 100 persone dico 100 perché è anche un numero facilmente per fare il calco sei un po' magico però no dico 100 perché prima il calco allora voi dovete uscire sono tutti a bocca aperta adesso cioè ma questo non è la matematica è la richiesta ma vedi che la matematica può attirare molto più le materie scientifiche se se la applichi sull'uomo ideale allora se voi ipotizzate che voi in vita vostra più o meno realisticamente riuscite a uscire con 100 persone voi dovete uscire con le prime 37 la vergine ci impiega 14 secoli allora ridimensiona però il problema è lo stesso ma ipotizzando 100 non c'è un altro segno che può far più veloce 100 l'acquario l'acquario esce con le prime 37 e poi sceglie la prima successiva che giudica migliore dei 37 precedenti probabilisticamente probabilisticamente è la persona migliore 4 secoli 4 secoli la bilancia 2 secoli la bilancia è tutta una questione di congiuntivi di scarpe io stasera ho delle scarpe bellissime a bilancia promossa se però hai le scarpe fuori posto ti manca il congiuntivo la bilancia è razionale nella scelta la bilancia si innamora ne scarta hai ragione è 36 razionalmente chi per il congiuntivo chi per le scarpe la 37esima lo prende irrazionalmente e lì piglia Robert Redford e poi dopo tre mesi si accorge che fa il facchino alla stazione di La Spezia ora questo non garantisce che la persona ci stia ha un po' aumenta le probabilità che sia la migliore di quelle che puoi incontrare ma non garantisce che quella ci stia quello poi è compito vostro non chiedetelo un matematico se avete quindi quindi per richieste di sinastrie comparazioni amori eterni nonché anima gemella B se avete il mitra di una domanda il più possibile velenosa e direi bella tosta pesante prego a lui a lui leggera grazie a tutti grazie a tutti